buongiorno a tutti qui arduino schenato dagli art forex e in questo video proprio durante le feste di natale e soprattutto ormai in prossimità della fine dell'anno mi piaceva analizzare alcuni mercati con voi e in questo video vorrei analizzare la sterlina dollaro ovviamente con il nostro modo allora prendo subito il grafico a schermo intero eccolo qui vediamo sicuramente delle cose interessanti allora la sterlina dollaro diciamo che ha una struttura da un punto di vista tecnico rialzista quindi notiamo tranquillamente il grafico appunto daily in questo caso adesso andremo a prendere il settimanale addirittura anche il mensile però la l'impostazione come vedete negli ultimi mesi quindi nel breve termine è un'impostazione assolutamente long adesso infatti andremo a vedere quella che sarà l'impostazione di trading da un punto di vista quindi andando a guardare tutta la parte un pochino più macro ovviamente questo comunque e ce lo vedremo dai grafici ci fa pensare di essere comunque molto molto attenti nell'operatività con la sterlina perché situazioni improvvise possono capitare e quindi la volatilità di questo mercato diciamo che è proprio molto molto importante e quindi movimenti repentini anche di una sola giornata possono esserci ecco quindi questo è un po' un'advice che do un po' tutti quelli che ascoltano attenzione massima parleremo di livelli parleremo di trend parleremo appunto di come vorrei operare sulla sterlina nei prossimi giorni nelle prossime settimane ma ovviamente dobbiamo sapere che se si vuole investire sulla sterlina dobbiamo avere comunque dei massimi stop di rischio massimo assolutamente ampi questo è quello che mi sento di dire bene partiamo quindi in linea di massima da un grafico mensile come potete vedere da uno storico un po' più ampio quindi prendiamo gli ultimi dieci anni circa un po' di più forse anche notiamo che i livelli dove è andata ad appoggiarsi la sterlina quindi zona nei venti sicuramente sono aree importantissime dove lui aveva creato come cambio un diciamo non voglio dire una lateralità però comunque una soprattutto negli ultimi anni una un range no una lateralità abbastanza chiara che passava per 1,20 e 1,33 e mezzo e adesso lo ripeteremo questo 1,33 e mezzo perché è un numero che nel cambio comunque si ripete che cosa succede succede che comunque nell'ottica di lungo periodo c'è sempre stato un depreciamento vedete della sterlina dollaro e quindi nel medio lungo periodo la tendenza della sterlina dollaro è una tendenza short come potete notare però noi ovviamente non operiamo da qui a dieci anni operiamo magari da qui a qualche giorno qualche settimana può essere anche qualche mese ma non di qualche anno sicuramente quindi è trading non è cassetti non sono cassettista io quindi tutte le view sono di breve termine e ripeto breve termine che per me significa qualche giorno qualche settimana in generale quindi quando si stia dentro magari quelle due tre quattro settimane sul mercato è quello che io chiamo proprio breve termine bene detto questo andiamo a prendere quindi la view e capiamo subito dove si sta indirizzando il mercato perché il mercato ha fatto questo minimo 1,20 ha questi massimi importanti in area 1,42 e 50 dove proprio nel 2018 c'è stata offerta di sterline e il grafico ci parla chiaro cioè la sterline è stata venduta ed è stata buttata giù detto questo abbiamo un'altra area molto chiara che si nota bene anche sul settimanale che è quella di cui vi dicevo prima cioè l'area 1,33 e mezzo dove come potete notare è esattamente da due anni e mezzo che sterlina non quota al di sopra di 1,33 e mezzo cioè non quota 1,35 1,38 1,40 eccetera eccetera se notiamo quindi da quando siamo andati sotto quel livello non è mai riuscita seppur ha cercato ogni volta in vari periodi in varie fasi di ritornarci al di sopra non è mai riuscita a chiudere al di sopra di quel livello quindi a rimanere sopra quel livello più tempo se guardiamo gli ultimi tempi noteremo che il mercato che cosa ha fatto ha fatto un bellissimo gioco di massimi minimi di swing in questo caso perché ha avuto la settimana del 30 novembre con chiusura al di sopra poi c'è stata la chiusura del 7 dicembre con chiusura al di sotto crea uno swing poi guardate massimo e chiusura al di sopra il 14 dicembre questa settimana che chiude oggi tra l'altro sembra proprio chiudere tranquillamente al di sopra di 1,33 e mezzo tra l'altro con un nuovo minimo di swing quindi tutta la configurazione che si è venuta a creare qui ecco qua con queste ultime quattro settimane ci crea veramente i presupposti per cercare nelle prossime settimane uno spunto long di conferma magari su time frame daily per andare long è ovvio che però quello che vi dicevo prima riguardo appunto al massimo rischio preso e quindi se si fa un investimento long sterlina bisogna avere la capacità di stare a mercato e di avere un massimo rischio mi avviso che non deve essere sopra quest'area come massimo stop loss cioè il fatto di avere dei mini stop proprio in ottica di puro speculazione ma che non chiamerei neanche trading di pura scommessa a mio avviso non avrebbe molto senso nell'ottica invece di dire investo sulla sterlina per arrivare adesso vedremo in zona 1,42 mezzo che credo sia la zona adesso un po' più di valore che potremo vedere nelle prossime settimane ha senso avere comunque un massimo rischio che non deve essere a mio avviso prima di questo livello quindi sotto 1,31 e 30 proprio per evitare anche tutte quelle false news o news o dichiarazioni o situazioni che possono portare una grandissima volatilità magari in una giornata in un pomeriggio ma che poi in realtà non cambiano la struttura che ci dicono i prezzi ok questo era quello che vi dicevo prima in introduzione andiamo a vedere poi delle confluenze perché se io vado a prendere lo swing mensile che ha creato proprio nel mese di marzo con il grande sell off che appunto ha creato swing convalidato proprio nella settimana di agosto nel mese di agosto andiamo a vedere un pochino quelle che sono le estensioni di volatilità di questo mercato quindi prendiamo appunto ecco qua prendiamo appunto questa questo massimo e minimo e noteremo come abbiamo due livelli non voglio andare troppo avanti con l'analisi voglio andare un'analisi più di breve come vi dicevo abbiamo due livelli importanti che confluiscono e che sono l'area 1 e 38 vedete eccolo qua facilmente testabile della sterlina nel breve e l'area 1 43 che è questa zona qua 42 50 43 questi massimi molto importante perché questo è il livello diciamo naturale di arrivo probabilmente nelle prossime settimane andiamo a vedere poi anche se prendiamo comunque l'estensione un po più di breve termine sul settimanale sempre dello swing di marzo portato però su un time frame weekly quindi con un'estensione leggermente diversa della volatilità ma vedrete simile in realtà poi nel suo ecco qua nella sua esplosione ecco qui andiamo a prendere un altro colore così capite il blu è quella è quella settimanale andiamo a prendere sempre il mensile per farvi capire la big picture vedete come c'è una confluenza anche di di livelli ma soprattutto prendendo i livelli principali che sono i primi guardate come l'area 37 38 e l'area soprattutto questa qui 42 50 43 e che è poi il livello in realtà principale è la zona dove io credo eh la sterlina si andrà a dirigere proprio nei prossimi mesi insomma e nelle prossime settimane quindi quindi non è un'operatività da qui a domani no non è non è questo quello che ci andiamo a stiamo parlando di un'ottica un pochino più di ampio respiro come dicevo prima di qualche settimana almeno o di qualche mese quindi in questo caso specifico tra l'altro anche con una struttura dei prezzi eh assolutamente ehm interessante proprio nel medio periodo con queste chiusure ripetiamo sopra 1.33 e mezzo insomma tutto predisposto il mercato per andare appunto verso quella zona quella zona poi se guardiamo un settimanale eccola qua o che è un po il time frame di riferimento vedete potrebbe essere proprio alla portata eh adesso che ha fatto gli ultimi swing delle prossime appunto quotazioni della sterlina qual è il primo il primo punto di arrivo allora tolgo via un attimo così avete capito che questi livelli importanti che sono l'area diciamo 1.38 1.42 e mezzo per farvi un'area tonda per avere un'area tonda poi pip 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 meno sono i primi livelli di arrivo quindi allora il primo punto sicuramente potrebbe essere l'1.38 da qui potremmo vedere vista anche la natura di questo mercato uno swing e poi si potrebbe lavorare anche su quello se ci va direttamente quindi in ottica poi operativa se vado su un daily così siamo proprio più operativi eccolo qua vedete come se adesso nelle prossime settimane le prossime giornate in realtà questo un daily dovesse magari andare su questa zona questa zona è la prima dove lui potrebbe fare anche no anche delle estremizzazioni di volatilità cioè scendere rapidamente recuperare che sarebbe anche molto interessante a quel punto allora questo potrebbe diventare un'ulteriore conferma del fatto che il mercato possa arrivare proprio in area 1.42 e mezzo 1.43 nel breve termine quindi per concludere io in ottica operativa sulla sterlina sarò long cercherò esclusivamente delle conferme long meglio su daily chart perché comunque la conferma weekly ormai sembra esserci nel senso che con quello che si sta venendo a creare sembra tutto molto confermato cercherò delle conferme di timing sul grafico giornaliero ma mi ricordo sempre che come vi dico se si investe in questo modo quindi di più giorni più settimane come faccio io lo stop quindi il massimo rischio che deve essere preso secondo la mia opinione non deve essere impostato al di sopra di 1.31 e 30 ma al di sotto solo al di sotto di questo livello potrebbe deteriorarsi la situazione della sterlina e magari rivedere per esempio l'1.27 e 70 o l'area 1.25 eccetera eccetera quindi a quel punto non avrebbe più senso stare dentro ma fin tanto che il mercato rimane dentro e fa anche degli spike fa delle volatilità di una giornata una settimana molto importanti fin tanto che non andiamo al di sotto di questa zona 1.31 e 30 1.31 e 20 secondo me non ha senso uscire da una posizione long di sterlina so che in questo caso vado un po contro quella che potrebbe essere anche una analisi un pochino più macro dove ovviamente vede tutte le incognite dell'evoluzione della sterlina con pilli in diminuzione con disoccupazione eccetera eccetera con un possibile anche no chissà abbassamento ulteriore di tassi della banca centrale inglese addirittura adottando tassi negativi chi se ne frega il grafico parla chiaro il grafico ci sta dicendo long ovviamente però avete visto la cautela è massima perché la situazione è particolare la sterlina sta vivendo appunto le negoziazioni brexit oltre appunto a tutte queste situazioni dovute alla pandemia che però quelle meno male sono abbastanza comuni un po in tutti i paesi ma noi guardiamo il grafico e però guardando il grafico dobbiamo anche rispettare le zone di massimo rischio cioè le zone dove in realtà la figura potrebbe cambiare ok quindi se si fa qualcosa sulla sterlina mi avviso farla in maniera troppo di breve cercando degli stop ridicoli diventerebbe esclusivamente il classico stop loss preso e dopo mi scrivete che mi dite c'è la caccia agli stop e tutte queste buffale qua quindi lasciamo stare tutte queste cose che sono esclusivamente alibi perché vuol dire che non sapete ancora tradare tradiamo e bene e tradando bene dobbiamo inserire degli stop soprattutto in questo mercato che abbiano senso cioè dove la figura cambia cambia esclusivamente a mio avviso se ritorniamo chiaramente al di sotto di queste zone va bene allora a questo punto io ho detto tutto spero che insomma la cosa vi sia piaciuta a questo punto eccoci qua io vi auguro ovviamente un buon natale perché questo video ovviamente voi lo vedrete il 24 sera dicembre quindi un buon natale a voi e alle vostre famiglie e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti